L'offerta formativa dell'Istituto Superiore Donnicale Arena comprende i seguenti indirizzi Amministrazione, finanza e marketing, sistemi informativi aziendali, turismo, tecnico-industriale in automazione e nautico Alessandro Sareto, quest'anno nel venticinquesimo anno di costituzione della vostra associazione non sarete a Sciacca ma sarete al Carnevale di Montevago Sì, esattamente sì, diciamo giustamente qua è diverso da Sciacca però siamo sempre presenti Che tipo di lavoro avete svolto e in che maniera avete cambiato il vostro prodotto rispetto a quello che facevate che avete fatto per tanti anni a Sciacca? Giustamente non era lo stesso prodotto che abbiamo presentato a Sciacca perché anche qua i tempi sono stati più ridotti però stavo facendo diciamo un carro più piccolo però ho fatto bene in tutte le sue parti Voi già nel passato e anche in queste ore state lavorando per altri Carnevali? Sì, abbiamo lavorato per i Carnevali di Portopolla Capopassero, Mussuneli e anche per il Pisepe pure quest'anno abbiamo fatto una nuova esperienza Ecco, c'è anche questa novità delle maestranze di Sciacca che ormai sono sempre più aperte alle collaborazioni con altri Carnevali Detto proprio in estrema sintesi, può anche diventare un lavoro questo della realizzazione dei carri? Ma se è preso seriamente potrebbe diventare veramente un lavoro perché noi ancora tuttora rifiutiamo le richieste perché siamo pochi, non siamo in tanti perché non facendo anche il carro grande molti ragazzi si sono sparsi nelle altre associazioni partecipanti quindi abbiamo dovuto rifiutare le offerte di lavoro perché è un lavoro Per concludere, se comunque da Sciacca dovesse arrivare una richiesta per consentirvi di sfilare fuori concorso come qualche volta nel passato si è fatto, voi siete pronti? Sì, perché no? Sarebbe un grande piacere E senza oneri a carico dell'organizzazione? Certo Antonio Triolo, c'è una buona tradizione di Carnevale a Montevago e ci sono anche dei giovani come te che quest'anno sono scesi in campo per la realizzazione di un carro Sì, è la 32esima edizione, questa è il Carnevale a Montevago e se no è il primo anno che facciamo un carro allegorico per Montevago A Sciacca ogni tanto si ha difficoltà anche a trovare dei ragazzi che sono disposti a partecipare alla realizzazione del carro o anche a ballare nei gruppi Qui c'è lo stesso problema o voi non avete avuto difficoltà? Difficoltà non abbiamo avuto tante però abbiamo un gruppo di 25-30 ragazzi per la costruzione e una ventina per i balletti e le coreografie e speriamo che dopo questo anno, che è la prima volta che faremo il carro che il gruppo si incrementasse e i giovani partecipassero tutti Sindaco, un Carnevale a Montevago che vuole anche lanciare dei messaggi importanti il primo di questi è contro la ludopatia Esatto, i ragazzi di Montevago che si sono offerti di fare il carro e di voler restare qui in quelle giornate pur chiedendomi di anticipare di un weekend il Carnevale hanno scelto come obiettivo un tema sensibilissimo in questo momento che è appunto lottare contro la ludopatia e infatti il carro si chiama Oyoko Skonsaioko proprio per... e anche devo dire come lo stanno concependo che è ovviamente una sorpresa dà proprio l'idea di che cosa... di quale messaggio vogliono lanciare e la cosa che voglio rimarcare è che da parte di ragazzi poi giovanissimi perché sono ventenni insomma o addirittura meno che ventenni il messaggio che è quello di mettere in evidenza come questa sia una piaga di fatto lo è, le famiglie si rovinano la politica sembra quasi disinteressarsi molte volte abbiamo fatto le ordinanze su sollecitazione della questura io personalmente sono firmataria di una norma in assemblea regionale la norma è passata in commissione salute perché è la prevenzione cura della ludopatia e quindi ovviamente di competenza della commissione salute è rimasto ancorato in qualche modo all'assessorato bilancio 100.000 euro sarebbe il costo che la regione deve mettere poi è ovvio che trattandosi di LEA e quindi di interventi da parte del sistema sanitario nazionale non è più una questione che riguardi la regione eppure malgrado questo evidentemente io l'ho detto più volte e lo ridico da questa sede e oggi evidentemente ci sono degli interessi forti perché non si voglia andare oltre e mi batterò fino all'ultimo proprio perché questa norma venga approvata e questo è per quanto riguarda il carro dei ragazzi di Montevago dall'altro lato invece avete aperto le porte alle maestranze di sciacca sì abbiamo aperto le porte quando ho avuto la richiesta da parte del gruppo di segreto per poter fare a Montevago realizzare a Montevago un carro dopo un'esclusione forse avvenuta a sciacca e mi è sembrata anche questa una bella opportunità e poteva essere quasi un know-how portato a Montevago d'aiuto ai ragazzi nostri perché stanno collaborando insieme si sono intesi subito quindi anche questo diventa diciamo così motivo di scambio e anche il tema che loro propongono mi ha fatto sorridere tra l'ironia e la compiacenza insomma tu parti con il doppio senso del parti come momento di relax e nello stesso tempo come momento di fuoriuscita in qualche maniera e comunque la vostra decisione è di anticiparlo di una settimana rispetto al carnevale di sciacca quindi non c'è nessuna concorrenza ma si può partecipare tranquillamente a tutte le manifestazioni carnascialesche ovviamente sì ovviamente sì la proposta devo dire è arrivata dai ragazzi ho avuto qualche interlocuzione con i genitori che un po' dissentivano eccetera però dico da che mondo è mondo il carnevale è una festa prettamente di giovani quindi se i ragazzi mi propongono l'anticipo per poter poi intanto portare qui quanti più coetanei o persone possibili e dall'altro lato poi poter utilizzare anche o poter avere anche l'opportunità di andare a sciacca mi è sembrata una cosa tutto sommato da raccogliere perché sempre di quelle tre giornate parliamo in fondo quindi voglio dire o prima o la settimana prima o la settimana dopo poco cambiava e quindi non è che li ho accontentati mi hanno convinta della bontà dell'idea che avevano e per me va benissimo grazie a tutti